Non solo vaccinazioni all'ex-Risto, cresce sensibilmente anche il ritmo delle inoculazioni al siero anti-covid all'ospedale di Muraglia, in particolare quello del polo didattico della formazione aziendale universitaria che è l'hub cittadino dedicato ai vaccini alle categorie fragili. Questa mattina l'ospedale di Muraglia si è presentato in un congestionato via vai di macchine con tante persone in fila per ricevere prima o seconda dose. Domenica qui a Muraglia erano state vaccinate ben 810 persone, un ritmo del weekend che ora si punta a trasferire pure nei giorni feriali con 600 vaccini al giorno dopo la velocità di circa 200 persone giornaliere tenute finora. Una macchina organizzativa complessa con protezione civile volontari che coordiano i malati oncologici, pazienti di ematologia e soprattutto diabetici. Una delle categorie più rappresentate con 8.000 persone da vaccinare. Arriviamo anche oggi a sfiorare i 500 vaccini. Purtroppo noi abbiamo messo tanti volontari spassi per non fare assembramenti ma la gente vuole arrivare fino davanti e arrivano un'ora prima. Io credo che la nostra forza è quella, la determinazione di arrivare a fare questi 8.000 di avvenire il più presto possibile. Con Marche Nord hanno detto che ci avrebbero dato una mano e avrebbero dovuto vaccinare anche se noi da un mese che chiediamo perché prima abbiamo fatto un elenco per andare con l'Asur come territorio, poi la diabetologia alle Marche, la regione giustamente la diabetologia qui a Muraglia, facciamo tutto qua. Però qua in questa zona capisci che se piove quello o quell'altro parcheggio ce n'è tanto ma oggi vedete che è un macello. Io credo che è importante, si vede la gente che ha voglia di venersi a vaccinare anche per la loro libertà, per le loro cose, per i familiari, le persone. Qui purtroppo noi non contiamo niente sotto un certo profilo ma contiamo molto per la gente che viene qui ci dice grazie.